Siamo con Carlo Bamonte, organizzatore della terza edizione del Memorial, atto a ricordare Giuseppe Iuliano e Luigi Cortese, due giovani di Rocca d'Aspiti scomparsi prematuramente. Come è nata l'idea di riorganizzare un evento simile? L'idea è nata tre anni fa, il motivo è sempre quello, ricordare due amici che purtroppo non ci sono più, sono stati strappati troppo presto a noi, alle loro vite e inutile ricordare l'amicizia che mi legava a loro, per cui dal primo anno ho iniziato a organizzare il Memorial e lo porto avanti con grande aiuto degli amici, dei familiari, è una bella soddisfazione perché lo vedo crescere in anno e in anno. Che riscontro sta avendo questo evento tra i giovani del territorio? No, c'è una grande partecipazione, quest'anno molte più squadre anche del territorio stesso di Rocca, tra anche le frazioni, terzerie, Serre, Tempalta, un po' tutte, si può dire tutte, hanno avuto una grande partecipazione. Poi come al solito abbiamo una buona partecipazione dei paesi limitrofi con un sacco di amici di uno e dell'altro che partecipano e vengono qui a commemorare ogni anno con piacere sia Luigi che Giuseppe. Giuseppe e Luigi erano due giovani del territorio molto sportivi, questa sportività si è conservata tra i ragazzi che stanno partecipando a questo torneo? Sì, c'è sempre l'agonismo, c'è sempre la competizione perché è giusto anche che sia così, però quello che è sorto sempre nel campo ci sta, ci sta l'agonismo, ci sta la voglia di vincere perché piace vincere a tutti, però una volta che si valga poi il cancello a fine partita finisce tutto. Siamo con il sindaco di Roccadaspide, Girola Mauricchio. Il comune di Roccadaspide anche quest'anno ha messo a disposizione il campo sportivo di nuova ristrutturazione per il terzo Memorial dedicato a Luigi Cortese e Giuseppe Iuliano, due giovani del territorio scomparsi prematuramente. Un comune quindi vicino alle iniziative giovanili. Meritevole, è un'iniziativa meritevole, io ringrazio Carlo che ogni anno si impegna affinché si realizza questa manifestazione. Come amministrazione comunale siamo vicini a tutte le iniziative che riguardano i giovani. Un comune che cresce ma che comunque non dimentica i ragazzi che non ci sono più. Assolutamente, noi siamo vicinissimi ai ragazzi, tant'è che pure per la scuola abbiamo fatto degli istituti che penso che sono i migliori in Campania e investiremo ancora. Un campo sportivo anche di nuovissima ristrutturazione, sono stati aggiunti degli spalti e viene continuamente potenziato. Sì, dopo questi lavori penso che fra 5-6 mesi inizieranno altri lavori per circa 800.000 euro, quindi faremo veramente un impianto sportivo che sarà una bellezza. Poi il posto è incattivo.